Presentato oggi il docufilm Frammenti, un'iniziativa importantissima che è stata realizzata dall'Associazione Smile Africa e nasce all'interno di una progettualità sostenuta anche dalla Fondazione Cariparo sull'invecchiamento attivo. In particolare questo progetto portato avanti a livello provinciale ha il titolo Vivere attivamente la terza età, già il titolo dà un segno importante di queste azioni. Questa iniziativa riguarda un documento, un docufilm, va a raccogliere le storie di chi delle persone anziane che hanno vissuto l'esperienza del lockdown, sottolineando tutti gli aspetti della fragilità e della difficoltà vissuta anche a livello emotivo nell'interrompere le relazioni. Del resto l'importanza delle relazioni umane e intersociali è fondamentale e l'interruzione ha messo in luce la sofferenza importante delle persone anziane, soprattutto chi vive da solo e anche degli adolescenti. Per gli anziani questo documento è una perla che mette in evidenza l'importanza di curare progetti che creino relazioni positive e il mondo del volontariato su questo è un'azione, una forza importantissima per le nostre comunità, quindi un grazie a Smile Africa e un grazie a coloro che sono i protagonisti di questa progettualità. Qual è il rapporto tra il docufilm e la terza età? Tra il docufilm e la terza età è significativo il fatto che è rivolto tutti i partecipanti che fanno parte di un laboratorio di storytelling tenuto dal nostro operatore, hanno in qualche maniera cercato di rivivere tutto il lockdown e di esprimere nella loro massima espressione, quelli che sono stati i nodi dolenti del vivere rinchiusi, pertanto la proibizione della libertà, a quello che è stato il reinventarsi e pertanto tirar fuori quel coraggio, quell'iniziativa, quei sentimenti, quella voglia di andare fuori, di uscire e di fare qualcosa per sentirsi ancora giovani, ancora utili e ancora non violati della propria libertà all'interno di questo contesto difficile. È stato un riadattamento anche del progetto che abbiamo dovuto fare in corso purtroppo al lockdown e al periodo emergenziale del covid e direi che l'obiettivo e il risultato che si sono raggiunti e che li vedrete il giorno 5 sono stati notevoli perché è stato un modo di socializzare con questo gruppo e con l'esterno molto importante che ha fatto emergere proprio come questi progetti nel territorio soprattutto di Rovigo e nell'estrema provincia abbiano un grosso significato, ha anche valorizzato il territorio in cui si è girato perché si è girato nel Polesella vicino al grande fiume che ha raccontato tante storie e questi anziani si sono raccontati come una grande storia e sarà una bella serata anche emozionante. Grazie. Grazie a voi che sostenete le nostre progettualità anche attraverso l'informazione che è il modo più importante per mettere a conoscenza la cittadinanza di quello che si fa sul territorio.